Cresce la tensione in Campania a poche ore dalla decisione del Premier Conte che potrebbe assegnare la regione alla zona arancione o nell'ipotesi peggiore alla zona rossa. Intanto ieri registrato un calo di contagi da Covid-19. 3.120 casi positivi, 2.710 dei quali sono asintomatici. Attore del Greco nella giornata di ieri registrati 27 nuovi contagi di cui 2 ospedalizzati e 25 in forma asintomatica. Certificate anche 6 guarigioni. Si attesta quindi a 556 il numero delle positività presenti in città. Nel comune di Torre Annunziata nelle ultime 48 ore registrati 62 nuovi tamponi positivi al Covid-19 con 6 guarigioni. 264 quindi cittadini attualmente positivi. Nuovi 74 cittadini stabiesi positivi è l'annuncio del sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino che scrive su Facebook. A tutti loro va il mio augurio di guarire presto dal coronavirus. Giorno dopo giorno molti stabiesi escono finalmente dall'incubo del Covid ma sono ancora troppi i nuovi casi che registriamo ogni giorno. Tra i 74 cittadini positivi ci sono anche giovanissimi, due piccoli di un anno, un ragazzo di 7 anni, uno di 9 anni, uno di 10, uno di 12, due di 15 e uno di 17 anni. Brutte notizie nel comune di Ercolano che perde due cittadini a causa della pandemia da Covid. Si tratta di un uomo e di una donna entrambi di 66 anni che da qualche giorno avevano purtroppo visto peggiorare le loro condizioni. Il sindaco Buonaiuto scrive la nostra comunità è vicina alle famiglie dei nostri concittadini venuti a mancare e un momento di dolore per tutto Ercolano. Buonaiuto! Buonaiuto!